Benvenuti su Gossip Mania TV. Il mondo dei sostenitori dei Beabaldi è stato scosso da recenti eventi che hanno messo in discussione la stabilità della relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ex partecipanti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Questa coppia, che ha catturato l'attenzione del pubblico durante il reality show, si è trovata al centro di una tempesta mediatica che ha lasciato i fan perplessi e preoccupati. Tutto è iniziato quando, in un giorno apparentemente normale, i seguaci più attenti hanno notato un cambiamento significativo sui profili social dei due, avevano smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. Questo gesto, apparentemente banale nel mondo digitale, ha scatenato un'ondata di speculazioni e discussioni tra i fan. La situazione si è ulteriormente complicata quando è emerso che Beatrice aveva rimosso dal suo profilo tutte le fotografie che la ritraevano insieme a Giuseppe. Questi avvenimenti hanno generato una reazione a catena nel fandom. Molti sostenitori hanno espresso la loro delusione, criticando apertamente quello che percepivano come un comportamento immaturo da parte di due adulti. Un commento particolarmente pungente paragonava la situazione a un litigio d'asilo, sottolineando come ci si aspetterebbe una maggiore maturità da persone della loro età. In risposta alle crescenti domande e critiche, Beatrice ha tentato di calmare le acque. In un messaggio diretto ai fan, ha affermato di non aver intenzionalmente rimosso il «segui» a Giuseppe, suggerendo che potrebbe essere stato il risultato di un errore involontario durante la navigazione sul suo smartphone. Tuttavia, questa spiegazione non è stata sufficiente a placare i dubbi, soprattutto considerando la contemporanea sparizione delle foto condivise. Nel frattempo, il mondo del gossip non è rimasto a guardare. Dejanira Marzano, nota figura nel panorama delle indiscrezioni celebrità, ha avanzato alcune ipotesi sul possibile motivo del disaccordo tra Beatrice e Giuseppe. Secondo le sue fonti, il conflitto sarebbe nato da alcuni video che mostravano Giuseppe durante un evento legato ai provini del grande fratello, dove Beatrice era presente per motivi professionali. La Marzano ha anche suggerito che Giuseppe avrebbe seguito una ragazza su Instagram, forse nel tentativo di suscitare gelosia in Beatrice. La situazione si è ulteriormente complicata quando sono emerse voci su un Giuseppe, furioso, con Beatrice. Secondo queste indiscrezioni, il suo malcontento sarebbe stato causato da alcune dichiarazioni fatte da Beatrice alle sue fan, che sarebbero poi state riportate a Giuseppe, generando una situazione di tensione considerata seria. Di fronte a queste speculazioni, Giuseppe ha deciso di intervenire direttamente. Attraverso una storia su Instagram, ha categoricamente smentito l'esistenza di video compromettenti, invitando i «gossippari» a verificare le informazioni prima di diffondere notizie false e suggerendo loro, non senza una punta di sarcasmo, di cambiare mestiere. Questo susseguirsi di eventi ha creato un'atmosfera di incertezza tra i fan dei «Bea Baldi». La coppia, che sembrava aver finalmente trovato un equilibrio dopo un percorso turbolento all'interno della casa del grande fratello, si è trovata nuovamente al centro di discussioni e dubbi. I loro sostenitori, che avevano gioito per i recenti sviluppi positivi, incluse le presentazioni familiari che sembravano ufficializzare la relazione, si sono trovati improvvisamente a fare i conti con questa inaspettata crisi. La storia di Beatrice e Giuseppe è stata fin dall'inizio caratterizzata da alti e bassi. Il loro incontro nel reality show aveva dato vita a un flirt che aveva subito catturato l'attenzione del pubblico. Tuttavia, la loro relazione all'interno della casa era stata segnata da frequenti litigi e accuse reciproche di manipolazione, tanto da trasformarli, a un certo punto, in veri e propri rivali. Verso la conclusione del programma, però, si era assistito a un riavvicinamento che aveva riacceso le speranze dei fan. Una volta terminato il grande fratello, Giuseppe si era dedicato con determinazione a riconquistare l'attrice. Nonostante le iniziali resistenze di Beatrice, che in varie occasioni pubbliche aveva espresso scetticismo sulla possibilità di una relazione al di fuori del contesto televisivo, gli sforzi di Giuseppe sembravano aver dato i loro frutti. Gradualmente, i due avevano ricucito il loro rapporto, dando l'impressione di aver finalmente trovato una stabilità. Questa apparente serenità aveva trovato conferma in alcuni eventi pubblici recenti. In particolare, durante un incontro in Sicilia, Beatrice e Giuseppe erano stati immortalati in atteggiamenti affettuosi, e la presenza della madre di Giuseppe, che aveva accolto calorosamente Beatrice, sembrava suggerire un'accettazione familiare della relazione. Tuttavia, questa fase di apparente tranquillità è stata bruscamente interrotta dagli eventi recenti sui social media. La decisione di smettere di seguirsi reciprocamente e la rimozione delle foto hanno riportato i «Beabaldi» al centro dell'attenzione mediatica, ma questa volta per ragioni meno positive. Mentre i fan attendono con ansia chiarimenti ufficiali, il silenzio di Giuseppe e le spiegazioni parziali di Beatrice hanno lasciato spazio a numerose speculazioni. Alcuni ipotizzano che dietro questi gesti sui social ci possa essere un litigio più serio di quanto appaia, mentre altri sperano si tratti solo di un malinteso temporaneo. In conclusione, la vicenda dei «Beabaldi» continua a tenere banco nel mondo del gossip e tra i fan del Grande Fratello. La loro storia, caratterizzata da continui colpi di scena, sembra destinata a rimanere al centro dell'attenzione ancora per un po'. Mentre il pubblico attende sviluppi, resta da vedere se Beatrice e Giuseppe riusciranno a superare anche questa prova e a ristabilire quella serenità che sembravano aver finalmente conquistato. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo gossip.